Quel cabinetto mio salitaremo, venuto e allo mio riposeremo. La chi daremo la mano, la chi rai di su, e ridare l'altano, guardio venuto oggi. La chi daremo la mano, la chi daremo la mano, guardio venuto oggi. 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 Guardio venuto oggi. Guardio, guardio venuto oggi. Guardio puerto che gi Grazie a tutti. Grazie a tutti.